Vi hanno dedicato film, documentari, canzoni e addirittura esiste una sorta di patologia che si riferisce a quella sensazione di profonda nostalgia di chi l'ha visitata e desidera tornarci. Parliamo del Mal d'Africa che colpisce chi ha conosciuto la magia di questo paese, rimanendo via affascinati e soprattutto quanti là, in quel posto, ci sono nati, cresciuti, prima di andare via, lasciando i propri cari per cercare fortuna in giro per il mondo. Mal d'Africa è anche il nome dato allo straordinario evento organizzato presso il Palasport di Andria dalla confraternita misericordia della città federiciana in collaborazione con l'associazione New Asincrono e con il coinvolgimento degli ospiti del centro di accoglienza straordinario Buona Speranza con sede in Via Vecchia Barletta. Una platea grimita con oltre 1.500 persone che hanno preso parte a un evento spettacolo, una prima assoluta nel segno della solidarietà, della beneficenza e soprattutto dell'integrazione. Al ritmo di balli e canti della più tipica tradizione africana, un viaggio musicale che ha coinvolto cantanti africani, musicisti e ballerini nostrani, sino ad arrivare alle voci narranti di una serata che ha impegnato attivamente una trentina di ragazzi, ospiti del centro, e in attesa di capire se potranno o meno restare sul suolo italiano. Ragazzi con le loro qualità e caratteristiche, che sotto l'occhio attento del direttore artistico del laboratorio Saverio Zagaria hanno espresso i loro talenti, le loro virtù, in uno scambio di culture che non può che arricchire. Un grande successo frutto di circa 150 ore di preparazione in aula, che ha regalato una prima da brividi per il laboratorio del centro Buona Speranza di Andria.